L'ennesimo assedio della Recanatesi si chiude con un solo punticino, una mezza delusione stemperata di parecchio però dal fatto che la classifica è rimasta inalterata con una giornata in meno da giocare. I giallorossi hanno fatturato la consueta decina di palle gol, hanno dominato per larghi tratti la scena ma hanno anche dovuto sudare e sbruffare per rimediare al doppio svantaggio causato da un paio di errori individuali evidenti. Rimontare poi in certi casi è sempre molto problematico, la capolista ci è riuscita ed è mancato per completare l'opera solo il terzo gol più volte sfiorato. Il match si è messo subito in salita, sciagurato assist in orizzontale di Alessandretti intercettato da Sowe a cui si spalanca un'autentica autostrada, dribbling facile su Amadio e palla depositata senza difficoltà in rete. L'area canatese rugisce e dieci minuti dopo trova il pari, Ferretti apre sulla destra per Somma che rimette al centro, vanno a vuoto i due centrali ospiti e sbaffo da pochi passi in sacca. Insistono i paroni di casa, ventiduesimo, punizione di Giampaolo, testa di Pacciardi, la difesa libera a fatica. L'inerzia sembra tutta per i leopardiani che però alla mezz'ora vanno invece di nuovo sotto, fallo ingenuo al limite di Somma su Manari, il centrocampista ospite trova l'angolino giusto con Amadio, non del tutto incolpevole, battuto. Ancora tutto da rifare quindi, ma allo scadere del tempo ci sarebbe la chance giusta, Giampaolo anticipa Rizzitelli che lo atterra in area, rigore anche piuttosto netto e dagli 11 metri si presenta Minnozzi, conclusione debole e non sufficientemente angolata, Novi ci arriva con la maledizione dei penalty che prosegue. Ad inizio ripresa però il bomber si riscatta guadagnando di Tigno un pallone al limite dopo un paio di contrasti e scagliando un tiro che in qualche modo si insacca. Dentro allora tutta l'artiglieria pesante, al dodicesimo cross tesissimo di Quacquarelli, prova il tappin sbaffo, Manovi si trova il pallone tra le mani. Il Fiuggi-Sornione avrebbe anche l'opportunità di riportarsi in vantaggio, ma Rizzitelli da posizione favorevolissima spara addosso ad Amadio. Minuti finali che sono un monologo della Recanatese, 44esimo, minicucci per sbaffo, fuori di un niente. Triplice fischio con un risultato che certamente non fa fare salti di gioia, ma il bersaglio grosso si avvicina e tanto basta per trascorrere una serata serena. Giovanni Pagliari. Giovanni Pagliari l'ennesimo assedio che ha fruttato un punto, ma la classifica rimane inalterata, anzi forse è migliorata con una giornata in meno. Questa è l'estrema sintesi di una partita diciamo complicata sin dall'inizio. Sì, complicata perché ce la siamo complicata, insomma, con degli errori, però fanno parte del gioco, sbaglia l'attaccante, sbaglia il difensore, sbaglia il portiere, sbaglia il calcio e questo. Però ho visto una squadra viva che è aggredito fino alla fine e chi è entrata ha fatto bene. Io ripeto, io sono sempre soddisfatto quando la squadra gioca così, non pensiamo che possiamo vincere tutte le partite, ma vedo che anche gli altri non è che è così facile, no? Anche oggi sono state solo due vittorie. È un campionato difficilissimo, noi dobbiamo essere sereni e pensare che stiamo facendo qualcosa di importante e anche in quello dobbiamo essere primi, cioè nella lucidità di accettare il verdetto del campo e stare sereni. Premesso, la squadra costruisce sempre la dozzina di palle gol abituali, sembra però che abbia una piccola scimmia addosso, non so se è un'impressione che abbiamo dalla tribuna o la condividi anche tu dalla panchina, cioè la scimmia è la pressione di un obiettivo che si sta avvicinando partita dopo partita. Tra l'altro a me la scimmia è un animale che piace molto, perciò voglio dire a me non mi pesa niente, a me dispiace che io sono stato sempre innamorato del cammino, più dell'arrivo, perciò i ragazzi non li capisco proprio, io mi godo questo momento perché è un cammino meraviglioso, anche oggi ho visto una squadra che ci tiene tanto, che fa buonissime cose, io penso eccezionali per la categoria, crea gioco, c'è un'idea collettiva e questo piace molto, poi ci sono gli errori, altrimenti non c'era scritta serie D, ma magari serie B o serie A, perciò io non vedo scimmie, non vedo niente, è normale che più si avvicina al traguardo, più di solito in ogni corsa viene il fiatone, io devo essere sincero, forse perché sono un po' vecchietto, ho tenuto un po' di energia negli anni passati e il fiatone non ce l'ho.